I pesci come tanti portaocchiali, da microbiti e forni alimentati. Sbrindellano anche gli uomini annegati, ma il mare di Norvegia in quelle parti e nello sporto e lì campa il meluzzo. Che mangio sa di poco almeno un poco, mi sono grato, tengo la sua foto. Mi sono grato, tengo la sua foto.